Ma a voi sembra normale che la sinistra censuri un concerto di Povia, un concerto tra l'altro anche piccolino, comunale, in una sagra di paese? Il sindaco ha deciso di annullare il concerto di Povia per via delle sue opinioni politiche. Pensate se fosse successo il contrario, se un sindaco di centrodestra avesse annullato e censurato un cantante di sinistra. Ma poi voglio dire, annulliamo il concerto di Povia, poi però i trapper, i rapper che dicono e danno messaggi violenti di droga, di soldi facili, di stupro, di violenza, di coltelli, di rapine, tutto a posto. Però Povia con il suo piccione, per via delle sue opinioni, qui intanto sto a Piazza di Spagna, Roma, per via delle sue opinioni politiche viene letteralmente censurato. Ma non viene chiamata censura, bensì viene chiamata scelta culturale, artistica del sindaco di quel paese.